13 luglio 2017, pomeriggio di fuoco nel Norese, incendi sulla costa orientale della Sardegna dove nel pomeriggio due incendi di vaste proporzioni entrambe generati dai diversi focolai hanno provocato danni inestimabili al patrimonio naturalistico riducendo in cenere tutto ciò che hanno trovato sul loro cammino. Messa a dura prova la macchina antincendio con le squadre degli operatori dei vigili del fuoco di Nuoro con due aerei e un elicottero. Le aree sono quelle di Budoni, le campagne intorno a Arzana e poi nei pressi di San Teodoro. Al lavoro oltre i due Canadair e l'elicottero numerosi volontari e alcune unità di servizio antincendio regionale. Il rogo ha provocato gravi danni. A San Teodoro c'è stata anche la situazione critica nelle frazioni di Burrelis, Landui, Bigalavò e Malamuri dove le fiamme hanno lambito le abitazioni. Evacuate dai vigili del fuoco e dalle forze dell'ordine circa 400 persone. Ecco la problematica degli incendi d'estate ce li abbiamo. Bisogna fare delle leggi più più dure e più sicure per colpire chi fa questi incendi abusivi e poi ristrutturare il sistema antincendio, migliorarlo perché in tutta Italia stanno succedendo questi gravi incendi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.